ciao a tutti cari amici buonasera e bentrovati con un nuovo interattivo con i tarocchi dedicati all'amore allora questo pomeriggio tardo andiamo a vedere un po che cosa ci raccontano le carte i nostri tarocchi andiamo a vedere un po in generale non faccio domande quindi voi poi nel video troverete una piccola introduzione vediamo un po che cosa mi dicono intanto andiamo a vedere un po le energie generali qui parliamo di lavoro parliamo di una situazione di cooperazione quindi delle persone che si aiutano reciprocamente pace serenità tranquillità una situazione di stasi anche al momento direi anche probabilmente bloccata per alcuni di voi e anche piuttosto in bilico qui abbiamo una sinfonia incompleta quindi per alcuni di voi riguarda una situazione proprio di lavoro quindi un collega una persona che è all'interno della vostra cerchia e c'è interesse c'è attrazione c'è una situazione in bilico quindi apparentemente pace e tranquillità serenità ma qui qualcosa non si è concluso qua probabilmente è partita una relazione una storia un sentimento un'attrazione ma non si è conclusa è rimasta bloccata in appeso e abbiamo anche molta confusione molti conflitti interiori all'interno di questa situazione qua c'è appunto un restare in bilico perché probabilmente ci si aspetta qualcosa da questo rapporto qui si vuole portare il rapporto oltre ma ci si ferma certo è che i sentimenti e l'attrazione sono tanti che si cerca di stare in punta di piedi di non sconvolgere troppo le cose però prima o poi questa situazione deve andare da qualche parte andiamo a prendere i nostri tarocchi vediamo di cosa ci parlano qui c'è una profonda delusione per alcuni di voi un allontanamento un tradimento ci si sente feriti sia il cuore a pezzi questa spada che trafigge la terza spada potrebbe riguardarmi una terza persona che sta disturbando il rapporto ma in questo caso trattandosi di una situazione lavorativa come abbiamo visto potrebbe essere il lavoro stesso c'è la situazione stessa che ferisce questo cuore e separa le due persone qui c'è una forte delusione probabilmente una la persona si è allontanata non tanto magari a livello fisico ma più a livello emotivo perché l'uomo la donna in questione è turbata ci sono dei grossi confusioni non si sa bene che strada prendere c'è per alcuni di voi anche litigi incomprensioni promesse non mantenute è sicuramente comunque un uomo una donna che non vedono chiaro all'interno del rapporto e questo ha portato a un allontanamento voi siete deluse siete affrante vi siete chiuse in voi stesse e vedo che qui state diciamo concentrando le vostre forze su quello che è stata la perdita che avete subito nonostante la carta della pace che mi emerge qui probabilmente voi state anche facendo finta di niente cioè le cose vanno avanti come se nulla fosse però in realtà c'è molta sofferenza vedo che comunque c'è la possibilità cioè il sentimento c'è ancora qui l'affetto c'è ancora però voi siete molto concentrate su questo amore che ritenete sia stato dissipato sia stato buttato via qui riparli parliamo di lavoro quindi è molto forte questa cosa dell'aspetto lavorativo probabilmente c'è un progetto che avete in comune con questa persona state anche pensando c'è un'iniziativa il progettare qualcosa il costruire qualcosa il bagatto mi parla di una persona che ha la mente brillante una persona anche un po manipolativa sotto alcuni aspetti però diciamo che ha tutte le potenzialità manipola tutti gli elementi le coppe i denari quindi ha tutte le potenzialità per far crescere qualsiasi cosa non escludo per alcuni di voi che ci sia da parte di questa persona o un tentativo di manipolazione che ci sia o ci sia già stato che forse il motivo per la quale vi siete sentiti feriti oppure questa persona potrebbe cercare o anche voi cercare delle strategie per rimediare per portare la serenità la pace per ritrovare un po di equilibrio all'interno di questo rapporto si qua c'è bisogno di aggiustare le cose di fare chiarezza di dire anche le cose come stanno qui le carte mi parlano anche della decisione di dare un taglionetto a questo rapporto c'è la necessità di andare verso una situazione nuova e di cambiare la vita di cambiare quello che si sta facendo di dare una chiusura di chiudere proprio qua abbiamo la morte che mi parla della chiusura di qualcosa e della riapertura di qualcos'altro una trasformazione abbiamo questo 6 di spade che è un allontanamento può riferirsi a un viaggio ma è un viaggio che si fa non tanto per piacere di per sé ma perché a un certo punto non se ne può più e si prende armi e bagagli e si parte verso un lì di più tranquilli più sereni più pacifici quindi non escludo qui per alcuni di voi che si tratti anche di un ambito lavorativo e che sia la necessità di tagliare anche un licenziamento qua potrebbe esserci se non c'è già stato vediamo che altro emerge all'interno di questa situazione mamma mia qua abbiamo ansia paura allora qui questa persona o voi naturalmente sono interattivi scusate sono interattivi quindi possono esserci delle energie che si mescolano potreste riconoscervi voi all'interno della stesa come sentire che sono energie che appartengono a questa persona cioè di fidenza qui abbiamo un fante di spade una persona guardinga dovuto soprattutto al fatto che c'è questa sofferenza quindi io penso siate voi che siete un po' sul piede di guerra e provate un'ansia una forte angoscia perché o questa persona vi ha chiesto di ricominciare con questo bagatto quindi di ripartire o proprio tratta dell'ambiente lavorativo quindi siete un po' costretti a vedere questa persona perché ci lavorate insieme in entrambi i casi vedo che non ci dormite la notte c'è ansia c'è angoscia un senso di inadeguatezza perché appunto c'è un sentimento nascosto c'è un amore un desiderio di appagamento affettivo che non viene rivelato con questa luna e se anche paura delle conseguenze di questo rapporto di questo sentimento ecco perché c'è questa giustizia che mi parla di riportare in equilibrio avete bisogno di portare il vostro equilibrio in voi ma l'equilibrio che voi cercate evidentemente lo troverete solo allontanandovi da questa persona qui emerge questo 10 di spade quindi probabilmente riemerge la chiusura che abbiamo visto qui la sinfonia incompleta qua questa persona probabilmente vi ha proprio ferito vi ha pugnalato alle spalle e state molto male vedo pianti vedo sofferenza questa persona probabilmente ha un rapporto ufficiale qua mi esce la carta del matrimonio e riposo quindi l'allontanamento è dovuto al matrimonio o anche a un contratto di lavoro perché qui ripeto c'è emerge molto l'aspetto lavorativo però onestamente qui potrebbero esserci entrambe le situazioni quindi o questa persona è impegnata e effettivamente lavorati insieme quindi il rapporto il sentimento è nato all'interno dell'ambiente lavorativo ma questa persona è impegnata e ha voluto si è allontanata appunto per questo motivo qua emerge questo 3 di coppe quindi mi riconduce alla presenza di 3 persone quindi di una relazione a 3 per alcuni di voi qua potrebbe esserci anche un quadrato ed ecco anche il 3 di spade che avevamo visto prima quindi sicuramente qui c'è la presenza di un'altra persona si qua vi confermo che questa persona è impegnata è un uomo che ha una relazione ufficiale un rapporto stabile una famiglia anche dei figli probabilmente e è una persona anche che è molto attaccata alle cose materiali quindi si è girata, ha voltato le spalle a voi, ai sentimenti, a quello che prova e si è direzionata verso quello che è il suo impegno quindi quello che lui ha verso un impegno più grande dal punto di vista materiale e a voi vi è crollato il mondo addosso completamente cioè avete praticamente perso il terreno sotto i piedi no, allora questa persona diciamo che è una persona molto arida a livello sentimentale qui per molti di voi potrebbe essere, dopo vediamo i segni ma qui potrebbe essere un segno di terra è una persona proprio che ha in mente la casa, ha in mente la famiglia è concentrato sui suoi beni materiali prova una passione per voi qua emergete come la regina di bastoni quindi una donna passionale, una donna focosa una persona che ha un impeto molto forte anche un carattere forte sapete cosa volete portate positività il sole ovunque andate siete delle persone anche molto attive anche lavorativamente parlando molto organizzate però avete prendete le iniziative perché avete il fuoco nella pancia siete generose quindi è una persona che in voi ha trovato una donna che ha condiviso se stessa con quest'uomo vediamo un po' qui c'è stato del sentimento c'è stato amore almeno da parte vostra soprattutto qua c'è proprio il convivere insieme il condividere insieme il sentimento il 10 di coppa è l'appagamento affettivo al massimi livelli però qui abbiamo un matto a fondo stesa qui c'è a fondo mazzo che mi parla di una persona che non ha nessuna intenzione di prendersi delle responsabilità di quello che è stato ed è una cosa che è stata vissuta senza nessun tipo di progetto allo sbando proprio però voi vi siete innamorate voi avete visto questo rapporto come qualcosa che potesse portarvi a questo 10 di coppa e quindi anche una famiglia con un appagamento veramente totale a livello affettivo e avete visto il rapporto con un uomo giusto la persona che desiderate ma quest'uomo cari ragazze mie è un grande a rivista è una persona che non gliene frega assolutamente nulla di quello che è il vostro sentimento quello che provate ma è una persona che se non ha un rapporto ufficiale qui potrebbe essere per alcuni di voi ma è comunque attaccato ai soldi alla famiglia alla casa anche se è una famiglia di origine potrebbe essere una persona che è proprio non vuole perdere magari anche un'abitazione un'eredità ok quindi è proprio una persona molto 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 attaccata ai soldi allora io vedo qui che voi al momento vi sentite sole vi sentite chiusi in voi stesse abbandonate state riflettendo moltissimo su quanto è avvenuto con quest'uomo nonostante ciò state andando avanti state cercando anche di fare un percorso introspettivo personale per anche trovare una sorta di via d'uscita io vedo che siete anche un po' in attesa devo dire che vi venga proposto qualcosa di concreto da questa persona ma sappiate che non arriva assolutamente nulla qua abbiamo un appeso e questa persona anche volendo è totalmente bloccata ma voi avete il pensiero e state diciamo siete in solitudine e state riflettendo sul fatto che forse questa persona ha bisogno di tempo non è così questa persona non ha bisogno di tempo non ha bisogno di spazio semplicemente non vuole portarvi assolutamente nulla l'unica cosa che vi sta dando è solitudine e immarginazione e voi comunque continuate a pensare che probabilmente ha bisogno del tempo per riflettere ma dalle carte emerge che proprio la persona non reagisce non vuole prendere nessun tipo di iniziativa vi vedo restare attaccate al passato nonostante vedo qui abbiate un'alternativa nuova c'è qualcosa di nuovo a cui date le spalle perché siete molto concentrate su questa persona che vi ha ferito che si è allontanata che vi sta lasciando indietro siete ferite dal suo atteggiamento siete ferite dal fatto che questa persona probabilmente vi sta assolutamente ignorando e sta facendo anche finta di niente ma vedo che per voi qui c'è un nuovo inizio qui abbiamo questo bagatto di denari quindi probabilmente c'è una persona che vi sta lentamente con piedi di piombo offrendo qualcosa e qua vedo questo zero quindi c'è ricominciare di nuovo qualcosa di nuovo anche un'altra avventura per molti di voi quindi questo è un po' quello che emerge dalle carte io direi che per stasera mi hanno detto a sufficienza anzi per oggi pomeriggio mi hanno detto a sufficienza andiamo a vedere delle carte motivazionali per voi che vi possono magari aiutare a superare la situazione qua sono in un viaggio di continuo cambiamento la mia vita non è mai bloccata statica o spenta perché ogni istante è fresco e nuovo ogni fine rappresenta un nuovo inizio ecco quindi le carte qua vi stanno dicendo di non abbattervi perché anche se con questa persona è finita se con questa persona non vedete via di scampo c'è sempre un nuovo inizio mi raccomando ricordate che si chiude una porta e si apre un portone e non può non può piovere per sempre sono sano e pieno di energia energia meravigliosa mi sostiene lungo ogni giornata sono radioso vitale e attivo quindi mantenetevi positive non fatevi abbattere dalla situazione seguo la mia saggezza interiore sono in pace con il mio essere mi amo e confido di prendere decisioni giuste ecco non seguite quello che fa questa persona ascoltate voi stesse ascoltate quello che desiderate che sentite nel profondo del vostro cuore e fate la cosa giusta per voi sempre non state ad aspettare persone che hanno già una vita che hanno già una situazione e non vogliono lasciarla perché dentro di voi dentro di voi ognuno di noi ha in un certo qual modo un sesto senso ha la capacità di vedere oltre quello che in realtà abbiamo davanti l'unico blocco che ci impedisce di capire qual è la nostra decisione giusta è la parte razionale cioè il pensare l'intromissione della ragione che ci viene a dire ma forse ha bisogno di tempo ma forse se lo aspetto torna ma forse capisce voi dentro di voi sapete se una persona vi ama se una persona non gliene frega assolutamente niente di voi mi raccomando io con questo vi mando un grossissimo abbraccio vi ricordo che se mi volete contattare via mail o via whatsapp per dei consulti lo potete fare senza problemi anche semplicemente per chiedere delle informazioni trovate il numero e la mail nella descrizione del video con questo io vi saluto vi mando un grossissimo abbraccio e vi aspetto con i prossimi interattivi e vi aspetto vi aspetto vi aspetto